La Regione Toscana pubblicherà a breve un nuovo bando intitolato 100 ricercatori per la cultura, a favore dell'alta formazione e della ricerca in ambito culturale. Nelle immagini vedete la presentazione del bando presso l'Università per Stranieri di Siena. Attraverso i fondi POR FSE 2014-2020 saranno finanziati 100 assegni di ricerca per progetti che devono nascere obbligatoriamente dalla collaborazione fra gli Atenei, le scuole di alta formazione e gli enti di ricerca da una parte e gli operatori della filiera culturale e ricreativa dall'altra. 100 giovani ricercatori per la cultura, ricercatori che opereranno all'interno e faranno ricerca all'interno delle istituzioni culturali in collaborazione naturalmente con le università per risolvere le problematiche che vengono dalle istituzioni culturali. Quindi una sorta di ricerca applicata alla cultura. La presentazione a Siena del bando è stata incentrata in particolare sulla memoria e gli archivi. Il bando sta riscuotendo apprezzamente anche per questo particolare momento storico. Non solo si investe di meno in ricerca, soprattutto in ricerca di base, ma c'è quasi un sospetto verso un impiego di denaro che non abbia una ricaduta immediata. E credo che ci sia invece molto bisogno, anche per il tono democratico del paese, che si diffonda la pratica della ricerca, che in fondo è semplicemente la pratica del senso critico. E dall'altra il patrimonio culturale, i nostri musei, i nostri monumenti, il nostro paesaggio, hanno straordinariamente bisogno di diventare luoghi di produzione e redistribuzione della conoscenza. Grazie a tutti.